Ciao a tutti ragazzi, qui è Darkfone che vi parla e bentornati sul mio canale con un nuovo video dedicato a un nuovo videogioco, ovvero Star Citizen. È già da parecchi mesi che avevo acquistato questo gioco, ma ancora non ve ne avevo fatto nessun video perché aspettavo che gli sviluppatori creassero qualcosa di più imponente. Innanzitutto molti di voi si starete chiedendo, che cos'è Star Citizen? È un videogioco ambientato nello spazio, come state vedendo da quest'astronave qua davanti, nel quale potrete fare un'infinità di cose. Infatti, oltre ai semplici scontri tra le astronavi, potete fare i commercianti per trasportare le risorse da un pianeta all'altro, infatti ci saranno più di 15 sistemi solari con un'infinità di mondi. Potete fare anche i minatori negli asteroidi per cercare di diventare ricchi e comprare sempre più astronavi. Potete fare anche, perché no, i cacciatori d'Italia per dare le cacce ai pirati che danno problemi nello spazio. Potete fare le gare tra le varie astronavi. Quindi potete fare quello che volete. E se non vi piace volare, potete anche atterrare nei vari pianeti dei sistemi solari e fare degli scontri, dei veri e propri scontri, per conquistare le varie basi nemiche. Ancora però questo videogioco è in pre-pre-alpha, ovvero la data di uscita è molto incerta, si pensa che esca all'inizio del 2015, ma come molti di noi gli credono, si pensa che uscirà all'inizio del 2016. Quindi ancora la data di uscita è molto lunga. E vi state credendo, perché ce l'ho acquistato nel 2014, anzi nel dicembre del 2013? Perché acquistando il pacchetto che dava questa astronave che l'ho acquistato al costo di 60€, vi davano l'accesso sia all'alpha, alla beta e al modulo Dogfight, che andremo ad analizzare nei prossimi video più avanti. Infatti adesso, se voi andrete nel sito che trovate in descrizione, potrete sì comprare il pacchetto per partecipare alla beta, e vi daranno anche il gioco completo. Ma non vi sarà l'alpha, ovvero la versione sia ancora piena di bug, ma che potrete giocare verso ottobre-dicembre di questo anno. Quindi la data è molto vicina rispetto alla data di rilascio di questo gioco. Quello però che vi danno se acquistate questo videogioco in questo momento è questo, l'hangar. Dove potrete ammirare la vostra astronave, che ora saliremo tra qualche secondo, e poi andiamo a vedere quel robottino lì a che cosa serve. Quindi innanzitutto saliamo sulla nostra astronave, cliccando F. Come vedete la grafica è emoziafiato, ancora non si sanno quali sono le caratteristiche per giocare a questo videogioco, ma saranno molto alte. Quindi saliamo su questa scaletta, ed entriamo nella nostra astronave. Ancora ovviamente i modelli delle navi non sono finite, ad esempio in questa astronave che è la 325A, come leggete qui. È predisposta per fare i cacciatori di taglie, cioè per andare ad attaccare i pirati. Qua dietro ci dovrebbe essere un letto che ancora non c'è, che serve per dormire durante i lunghi viaggi. Qua davanti c'è ovviamente la cabina di controllo, clicchiamo F e sediamoci. L'emozione è davvero grande. Accendiamo il motore, attiviamo tutto. E ovviamente come vedete non succede nulla, perché ancora abbiamo soltanto l'hangar, quindi non possiamo giocare. Ma, verso la prossima settimana o verso maggio, questo portellone qui davanti si aprirà e potremo uscire per lottare contro gli NPC, ovvero i bot guidati dal computer. E invece verso l'inizio di luglio o metà agosto potremo andare a combattere contro i nostri amici. Magari alla fine del video vi lascerò alcuni pezzoni del Modulo Dogfight che hanno annunciato qualche settimana fa. Adesso spegniamo la nostra astronave e andiamo a provare altre cose che ci dà questo hangar. Ovviamente la maggior parte dei video che farò quando uscirà questo videogioco saranno su Star Citizen. Non sarò da solo, ma sarò con Strenos e Nick, che hanno anche loro acquistato questo videogioco. Adesso scendiamo e andiamo a vedere altre cose. Qui c'è questo modellino dove ci possiamo cambiare la nostra tuta, a me piace questa acqua rossa. Adesso andiamo qui, dove troviamo questo strano aggeggio che se ti va cliccando F, andiamo a cliccare Tab e spuntere a questa freccetta dove possiamo andare ad analizzare le varie armi che abbiamo montato sulla nostra astronave. Ad esempio nella 325A che ho acquistato ci sarà questo cannone qua davanti, altri due cannoncini sulle ali e poi dei missili che dovrebbero agganciare il nemico. Sono due da questo lato e due dall'altro e qua dietro troviamo il motore. Adesso, come vedete, c'è questo robottino che adesso andiamo a provare, che è quello lì in fondo. Dove siamo andati a montare l'arma di questa astronave, se non sapete come si fa andiamo a smontarla, andando in weapons, smontiamola. Andiamo nel nostro robottino che trasciniamo qui, andiamo qua e gli trascinate sopra l'arma, come ho fatto in questo momento. I missili ancora non ci possono provare nel nostro robottino perché ancora è in fase alfa. Andiamo qui, spegniamo. E l'arma dovrebbe essere montata sul nostro robot, vediamo. Esatto, come vedete è questa piccolina qui davanti. Quindi adesso andiamoci a sedere. Dai, sali, sali, sali. Sali. Ok, il chiama F ancora è abbastanza bugato, ma in un gioco del genere è ovvio. Ok, come vedete, sto muovendo col mouse, non c'è il mirino, quindi sto sparando a caso e non riesco a beccare neanche la figura qua davanti. Ok, lo beccate. Come vedete, non si è ancora abbastanza bugato. Ok, i colpi rimbalzano. Però già ti dà un'idea di come dovrebbe sparare l'arma. E più avanti si potranno andare a provare le armi che hai comprato. Ok. Abbattuto. Proviamo a battere quell'altro e poi scendo da questo robot. Vai. Mori. Ok, quello là sotto non cade, basta. Mi arrendo. Clicciamo F e scendiamo. Clicciamo F, siamo scesi. Credo già di avervi detto, quasi tutto. Non c'è molto da dire su questo gioco per ora, perché è ancora in fase alfa e non è uscito molto soltanto quest'hanger. Se volete acquistare il videogioco trovate il link in descrizione. E come già detto, tra la prossima o tra due settimane dovrebbe uscire il modulo Dogfight, cioè dove provateremo finalmente a provare la nostra astronave contro i NPC. Magari farò qualche video anche con Strenus. Credo di avervi detto già tutto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, commentate e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi. Qui da Darkfall è tutto e alla prossima. See you on the verse. E' piaciuto il video, lasciate un like, commentate e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi. E' piaciuto il video, lasciate un like, commentate e se ancora non l'avete fatto. E' piaciuto il video, lasciate un like, commentate e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.